Buonasera gentili telespettatori, eccoci ancora qui con il nostro spazio informativo dedicato all'edilizia residenziale pubblica. Siamo qui al giovedì sera, dalla scorsa settimana ci siamo spostati, siamo sempre qui su Prima Antenna dalle 18 alle 19 in diretta per rispondere alle vostre domande, alle richieste e il nostro centralino è aperto per voi. Il numero di telefono è in sovrimpressione 011 9575 798. Allora vi aspettiamo come sempre numerosi e vi devo ringraziare, devo davvero ringraziare per l'affetto che ci riservate, che riservate alla nostra trasmissione. Abbiamo avuto un ottimo riscontro in questi mesi e quindi questo lo dobbiamo davvero a voi. Ma entriamo nel vivo della nostra conversazione, della nostra puntata. Oggi parleremo degli sportelli dell'ATC. A chi bisogna rivolgersi per un problema di manutenzione o per esempio per una bolletta sbagliata o ancora a chi bisogna rivolgersi per un cambio alloggio ci sono vari canali e noi cercheremo di capire quali sono. Se ne sono aggiunti anche altri in quest'ultimo periodo e quindi parleremo anche di questo. E parleremo anche di una scadenza molto importante, quella per il fondo sociale. Quindi seguite davvero la nostra puntata dall'inizio alla fine per avere tutte le notizie del caso. Allora parlavamo di sportelli. A chi rivolgersi? A chi telefonare? Quando? Lo capiremo oggi con gli ospiti che sono in studio con me. L'ATC scende in strada e raggiunge i cittadini direttamente nei quartieri con l'iniziativa Lo Sportello Sotto Casa. Dal 5 marzo l'Agenzia Territoriale per la Casa è attiva con un vero e proprio ufficio su quattro ruote al quale gli abitanti delle case popolari potranno far riferimento per segnalare i loro problemi e chiedere informazioni senza dover per forza raggiungere le sedi tradizionali o telefonare al centralino dell'ente. A partire da quella data a tutti i giorni un camper attrezzato come un vero e proprio ufficio farà tappa nei quartieri di Torino e provincia pronto a dare informazioni e supporto a chi vive nelle case popolari. Tutta una serie di problemi che noi ben conosciamo e che sappiamo essere presenti nei vari quartieri che vanno dalle manutenzioni, vanno dalle risposte che ogni giorno si devono dare a coloro che sono gli assegnatari, sono ovviamente recepite in modo migliore, più attento, più vicino nel momento in cui anziché far andare tutti presso la nostra sede o presso le circoscrizioni si ha l'opportunità di andare sui quartieri e di andare e di poter consentire alle persone che le loro pratiche, le loro segnalazioni, i loro problemi vengano risolti in cortile, quindi più vicino e più immediatamente aderenti al loro appartamento, al loro luogo in cui vivono. Il riscontro è stato estremamente positivo tant'è che moltissime sono le segnalazioni, le richieste, i suggerimenti che vengono dati, queste segnalazioni, queste richieste, questi suggerimenti naturalmente dovranno essere tutti valutati attentamente e nostro compito è di dare nel minor tempo possibile tutte le risposte necessarie al fine di soddisfare le esigenze delle persone. A bordo del camper ci saranno due persone pronte a fornire informazioni su tutte le pratiche che riguardano la casa popolare, anche attraverso puscoli informativi, ad aiutare gli abitanti nella compilazione dei moduli o nella lettura delle bollette. Gli abitanti potranno anche segnalare problemi o svolgere direttamente sul posto alcune delle pratiche più frequenti, senza bisogno di recarsi nella sede di Corso Dante. Allora intanto all'interno del camper vi sono sostanzialmente due persone, una persona che riceve ovviamente tutte le domande, le segnalazioni e anche le procedure che devono essere svolte per esempio per un cambio alloggio, per un subentro di una persona in più che entra, per una rinformazione sulle spese eccetera eccetera, tenendo conto che, e poi ovviamente un'altra persona che invece, come dire, ha più un compito di comunicazione, qui un compito di conoscenza che per noi è fondamentale di ogni territorio, di ogni realtà, per comprendere esattamente quali sono le problematiche vere, reali, sulle quali noi dobbiamo intervenire prima di tutto. Dai quartieri popolari di Torino l'iniziativa si trasferirà poi in provincia e toccherà una ventina dei principali comuni, da Settimo ad Ivrea, passando per Chieri, Pinerolo e tanti altri ancora. Eccoci di nuovo in studio, allora iniziamo a capire un po' come funziona questo servizio. Allora Carola, tu per noi, per questa trasmissione, sei anche un po' la mente creatrice, collabori davvero attivamente con noi, quindi il nostro rapporto è sicuramente di collaborazione e di amicizia. Come funziona questo servizio, visto che è partito già? Sì, certo. Il servizio è partito, forse lo si diceva appunto in queste immagini che abbiamo visto il 5 marzo. È partito significativamente da Falchera. Falchera è una zona di Torino se vogliamo anche abbastanza lontana dalla sede ATC di Corso Dante, quindi abbiamo un po' immaginato che le persone che da Falchera si devono spostare, devono raggiungere gli uffici dell'ATC, devono fare un lungo viaggio. Pensiamo ad esempio al percorso con il tram, ci vuole più di un'ora. Quindi idealmente l'idea era proprio quella di proporsi sotto casa. La tappa in Falchera, così come molte altre, ha riscosso grande successo, soprattutto con le persone per cui questo servizio è pensato, quindi le persone anziane, le persone che hanno difficoltà a muoversi, a spostarsi, a raggiungere gli uffici per le pratiche. Il camper è stato pensato un po' per questo. è un servizio totalmente sperimentale, lo abbiamo detto. I primi due mesi, marzo e aprile, serviranno ad ATC per capire intanto se funziona, se piace ai nostri utenti, insomma questo poi ce lo direte anche voi attraverso le vostre interviste, ma anche se ci sono dei quartieri che più di altri hanno bisogno di questo servizio. Perché siamo stati a Borgaretto a vedere appunto l'esperienza del camper ATC e a conoscere un po' le persone che si rivolgono ai dipendenti ATC per esporre i loro problemi, richieste e varie problematiche. Sentiamo. È partito da oltre un mese toccando quartieri della città grandi e piccoli e ora sta facendo tappa nelle cittadine della prima cintura di Torino. Il camper dell'ATC, chilometro dopo chilometro, sta raccogliendo le richieste degli abitanti delle case popolari, le segnalazioni e a volte anche le critiche. Nella tappa di Borgaretto gli utenti non si sono fatti attendere, giovani, anziani, donne e uomini, tutti animati dalla volontà di rendere le palazzine in cui risiedono più efficienti e belle da vivere. Lo sportello ATC sotto casa è un'esperienza che piace. Che cosa pensa di questo servizio? Ottimo direi, adesso poi vediamo i risultati, quello che una chiede se si va avanti oppure no, sulle cose che una dice, ma però lo trovo ottimo perché andare fino a Orbassano una volta al mese, due ore la coda, non so se si passa. Che cosa vorrebbe chiedere in particolare? Un po' più di controllo, un po' più di regole, che forse un po' di regole sono saltate un pochino, ecco quello che vorrei, sono vent'anni. Lo so sempre trovata bene, non ho niente da dire, però se ci sono qualche regola in più, perché ultimamente sono saltate, diciamo la verità. E lei di questo servizio cosa pensa? Va benissimo, per noi va benissimo. Le è capitato altre volte di dover appunto segnalare qualcosa? Che strumento ha utilizzato? Telefono, il telefono, il numero verde. E in quel modo la risposta com'è? È immediata? Diciamo, tante volte è immediata, tante volte, la maggior parte delle volte no. Come l'altra volta che ne avevo bisogno, per una settimana non mi ha risposto nessuno al numero dell'ATC. Non vengono rispettate le regole per quanto riguarda appunto la convivenza civile, per i parcheggi, perché i parcheggi dovrebbero essere solo usati esclusivamente per macchine, invece ci mettono di tutto, tipo furgoni, pedane, adesso io ne parlerò comunque loro, di questo problema. Sì, tra un po' ci mettono la locomotiva qui, davvero. E poi niente, poi anch'io ho sempre usufruito del servizio di numero verde, dove risposte non ne avevi comunque, per quanto riguarda questa manutenzione della casa, cose anche abbastanza gravi, diciamo. E niente, va bene che ci sia questa cosa, anche che siamo stati preventivamente avvisati, comunque così lo sappiamo, adesso siamo qua. L'ATC che arriva direttamente dai condomini per raccogliere tutte le segnalazioni, come le sembra? Beh, un'ottima cosa, specialmente per le persone come me, anziane, che non si possono recare nel punto determinato, perciò benvenga e speriamo che la cosa continui. Quali sono i problemi secondo lei da segnalare? Ma guardi, io personalmente non ho, avevo soltanto quello della spesa acqua, in quanto sono nove mesi, cioè un anno circa che sono vedova, continuavano a mandarmi l'acqua per due, che ritengono sia il caso, ecco. Anzi, adesso desidero un riscontro con i dovuti rimborsi, perché io sono 30 anni all'ATC e ho sempre guardato tutto regolarmente. I tecnici dell'ATC rispondono alle richieste dei cittadini, proponendo soluzioni o il percorso migliore per ottenere le risposte richieste. Informazioni, ci sono anche molti anziani, che sono anche contenti comunque, che magari dare una lettura alle lettere di comunicazione nostre, o le bollette, chiaramente in merito, e segnalazioni, per cui da questo lato ho una rispondenza alla gente contenta. Infatti mi chiede sempre quando tornate. Ma non manca qualche critica e un po' di scetticismo. L'ATC ha sempre detto noi siamo amministratori, ma quando noi, condomini, veniamo a chiedere all'ATC un'assistenza amministrativa, loro prendono nota e si lavano le mani, come il pilato. Vogliamo essere assistiti, visto che è un'agenzia territoriale per la casa, che si dichiara di assistere ai condomini, che ci assista. Questo è un fumo negli occhi. Ok, andiamo avanti. Dottor Brossa, parlavamo degli sportelli. Sportello unico, ufficio relazioni col pubblico. Le differenze? Dunque, intanto... Ci si può rivolgere a qualcuno per qualcosa e all'altro invece per altre problematiche? C'è uno smistamento? Senza alcun dubbio. Intanto ricordo i numeri di telefono che è importante conoscere per fare la prenotazione, prendere l'appuntamento al fondo. 011 31 30 251 e 011 31 30 504. Questi sono i numeri a cui potrete rivolgervi per chiedere di poter venire a presentare la domanda per il fondo. E ricordatevi sempre arrivare con l'ISEE in cor valido, ma del 2013. Ecco, negli ultimi due minuti della nostra trasmissione io ridò la parola a lei, dottor Brossa, per ricordare questo appuntamento. la scadenza del 30 di aprile che è stata invece prorogata per la presentazione delle richieste per il fondo sociale. Esatto, come abbiamo detto prima. Ricordo ancora i numeri di telefono a cui potrete telefonare per prenotare l'appuntamento. 011 31 30 251, 011 31 30 504. E vi ricordo dovrete presentarvi la mattina o il pomeriggio quando verrete prenotati con l'ISEE fatto però relativo a questo anno, quindi al 2013. Quello che è a data 2012 non è valido e quindi per noi non è valido anche se dal CAF vi dicono che è valido perché per loro effettivamente è ancora in corso di validità ma secondo la normativa regionale deve avere queste caratteristiche. E quindi vi prego di prestare attenzione alla data che è riportata sul foglio che avrete. E soprattutto non aspettate gli ultimi giorni, gli ultimi momenti perché saranno quelli più concitati quelli in cui ci saranno più persone in attesa che aspettano appunto di avere una risposta alla loro richiesta. Se posso dare un consiglio se potete evitare di fare le telefonate al mattino di fare la prenotazione al mattino sicuramente riuscirete a prendere più rapidamente la linea nella seconda parte della giornata. Mediamente abbiamo un rapporto di 10 a 6 e quindi è più facile ottenere risposte nel pomeriggio. Grazie. 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 Grazie.